Anticipazioni Beautiful. Lunedì, primo marzo 2021. Wyatt, svela al fratello, l'errore fatto da Sally. Lo ha chiamato Liam, nel fargli la proposta di matrimonio. Liam, sbigottito, precisa che tra lui, e la sfectra, non c'è mai stata nessuna vera relazione. Wyatt, però, non riesce a tranquillizzarsi. I due, parlano poi di Hope, e dell'assurda decisione di ritornare a lavorare con Thomas. Nel frattempo, nell'ufficio stilisti, Thomas insiste, affinché la Logan, ceda alle sue richieste. Con la scusa di voler battagliare, contro la Intimate, si candida a miglior stilista, per poter vincere la guerra. Hope, ribadisce di essere ancora titubante. Ha deciso di condividere la custodia di Douglas, solo per il bene del piccolo. Niente di più. Poco dopo, Liam raggiunge il suo rivale, e lo invita a lasciare in pace la figlia di Brooke. Lui, ridendo, lo prega di non sprecare il fiato. Hope, ha già preso la sua decisione, in quanto non lo vuole come collaboratore. E lo invita a non vederlo, come una minaccia. Liam, però, gli ricorda quello che ha fatto. Una proposta indecente alla sua amata, in cambio della firma sui documenti, per l'adozione di Douglas. Grazie a tutti.